Ciao, in questo video parliamo dei passaggi di stato, detti anche transizioni di fase, poi vediamo che cosa sono i diagrammi di fase e il calore latente. Allora, velocemente la nomenclatura, gli stati della materia sono solido, liquido e riforme, il passaggio da solido a liquido è detto fusione, il passaggio inverso è la solidificazione, invece da liquido a riforme abbiamo la vaporizzazione, che vedremo può avvenire tramite evaporazione o ebollizione, e il passaggio inverso è la condensazione. Allora, una cosa subito importante da precisare è che la temperatura non è l'unica grandezza fisica che determina un passaggio di stato, ma molto importante è anche la pressione. Infatti, regola importante, l'alta pressione favorisce gli stati più densi, voi dovete immaginare com'è la pressione che schiaccia la materia e quindi gli stati più densi sono favoriti. Che cosa significa? Ad esempio, a un'atmosfera l'acqua bolle a 100 gradi, però se la pressione è maggiore di atmosfera sarà più favorito lo stato liquido rispetto a quello gassoso e quindi l'acqua bollerà a una temperatura più alta, ad esempio 150 gradi. A una pressione invece minore, come in alta montagna, magari l'acqua bolle solo a 80 gradi e così via. Siccome lo stato di una sostanza dipende anche dalla pressione oltre che dalla temperatura, si costruiscono dei grafici, detti diagrammi di fase, dove sull'asse Y si mette la pressione, sull'asse X si mette la temperatura e poi si rappresentano varie regioni che determinano lo stato di una certa sostanza, cioè solido, liquido o gassoso. Ad esempio, questo in figura è il diagramma di fase dell'acqua e utilizzando il grafico, se conosci la pressione e la temperatura di una certa quantità d'acqua, puoi capire se quell'acqua è solida, liquida o gassosa. I confini tra le regioni indicano i passaggi di stato, cioè quelle condizioni di pressione e temperatura dove coesistono due diversi stati. Ad esempio, questa linea tra l'azzurro e il giallo, la linea rappresenta i vari punti di ebollizione alle diverse pressioni. Avremo che alla pressione di un'atmosfera avremo la temperatura di ebollizione di 100 gradi centigradi. Al crescere della pressione cresce anche la temperatura di ebollizione, come abbiamo detto prima, fino a raggiungere un certo punto, detto punto critico, a 218 atmosfere, dove l'acqua bolle a 374 gradi e oltre questa temperatura non si può più avere lo stato liquido, ma rimaniamo sempre nello stato gassoso e si parla più propriamente di fluido, supercritico, con fluido si intendono sia i liquidi sia i gas, che sarebbe una sorta di gas ma con la stessa densità di un liquido, però non può condensare. Allo stesso modo si ha un'altra curva tra la regione solida e la regione liquida che fornisce la temperatura di fusione alle varie pressioni. Ad esempio avremo che la temperatura di fusione a un'atmosfera è 0 gradi centigradi, come previsto. Osserviamo che in questa regione coesistono solido, liquido e vapore. Questo puntino rosso è detto appunto punto triplo perché è la combinazione di temperatura e pressione alla quale ghiaccio, acqua liquida e vapore acqueo possono coesistere stabilmente, cioè tutti e tre listati della materia esistono e sono in equilibrio tra loro. Per l'acqua il punto triplo si ha a 0,01 gradi celsius e 611,2 pascal, che è una pressione molto bassa, sono circa 6 millesimi di atmosfera e per questo motivo in natura non si osserva mai l'acqua nel suo punto triplo. Ma in questo filmato che sto per mostrarvi potete vedere come si comporta l'acqua nel punto triplo, infatti in una ampolla sono state create quelle condizioni di temperatura e pressione. A pressioni inferiori a quella del punto triplo non c'è la fase liquida, cioè in questa regione in basso a sinistra del diagramma di fase, ma si passa da solido direttamente a vapore e viceversa. Questa transizione di fase prende il nome di sublimazione, lo stesso nome si avviene da solido a gas e esclude appunto la parte liquida. Una tipica sostanza che sublima a pressione atmosferica è il ghiaccio secco, che sarebbe sostanzialmente anidride carbonica, detta anche di ossido di carbonio, solido, CO2 in simboli. Vedete questo è il diagramma di fase, vedete che il punto triplo si ha a meno 56 gradi e 5,1 atmosfere. Quindi a pressione atmosferica e temperature ordinarie l'anidride carbonica è allo stato di vapore, come è noto, però se scendiamo sotto i 78 gradi, sempre a un'atmosfera, abbiamo un'anidride carbonica solida senza passare per lo stato liquido. L'anidride carbonica liquida si può solo avere tra meno 56 gradi e più 31 gradi. Oltre 31 gradi si ha un gas che vuol dire che anche comprimendolo rimane gas e diventa fluido supercritico, mentre il vapore comprimendolo diventa liquido. Vediamo cosa succede se mettiamo del ghiaccio secco in acqua. In questa animazione vedete il ghiaccio secco sublima, diventa gas, l'acqua è stata aggiunta perché l'anidride carbonica non è visibile a occhio nudo, invece in questo modo il ghiaccio secco sublimando i vapori spingono l'acqua fuori che poi l'acqua fredda condensa e forma delle minuscole goccioline che la rendono visibile. Rispetto alle altre sostanze l'acqua ha una proprietà insolita, infatti l'acqua solida, cioè il ghiaccio, è meno denso dell'acqua liquida. Lo puoi notare sperimentalmente perché il ghiaccio galleggia sull'acqua come è noto. Invece per tutte le altre sostanze avviene il contrario, non so, il ferro solido è più denso del ferro liquido e quindi affonda. Dato che avevamo detto che l'alta pressione favorisce gli stati più densi, per tutte le sostanze questa curva tra solido e liquido al crescere della pressione tende a crescere anche come temperatura, cioè andare in alto a destra. Invece per l'acqua va in alto un po' a sinistra perché al crescere della pressione viene favorito di più lo stato liquido rispetto a quello solido, perché lo stato liquido è più denso di quello solido. Si può osservare ad esempio sperimentalmente perché quando un'auto passa sulla neve la pressione dei pneumatici tende a sciogliere i fiocchi di neve, proprio perché aumentando la pressione si favorisce lo stato liquido e questa è una caratteristica dell'acqua. Quindi si scioglie la neve sebbene la temperatura sia sotto zero. Successivamente però l'acqua torna allo stato solido, forma uno strato di ghiaccio e per evitarlo bisogna buttare il sale sulle strade perché l'acqua salata solidifica una temperatura superiore. Ora vediamo che cosa succede quando coesistono insieme più stati della materia. Ad esempio lo stato solido e lo stato liquido. Alla temperatura di fusione solido e liquido sono in equilibrio. Se viene fornita energia, questa energia non produrrà un surriscaldamento dell'acqua ma invece contribuirà a fondere parte del ghiaccio e solo quando tutto il ghiaccio sarà fuso si potrà alzare la temperatura dell'acqua. Ad esempio alla pressione di un'atmosfera l'acqua sarà sicuramente a zero gradi. Se noi scaldiamo questo bicchiere l'acqua continua a essere a zero gradi ma anziché scaldarsi fonde il ghiaccio. Viceversa se noi mettiamo questo bicchiere in freezer la temperatura dell'acqua non diminuirà affinché tutto il ghiaccio non sarà solidificato. Quindi diciamo all'equilibrio stato solido e liquido hanno una temperatura ben definita che è quella di fusione che si può leggere sul diagramma di fase. La situazione è un pochino più complessa per quanto riguarda l'equilibrio tra liquido e gas. Vediamo che cosa succede se mettiamo un liquido in un contenitore chiuso a una temperatura qualsiasi. Allora inizialmente parte del liquido evapora e parte del vapore condensa però la velocità di evaporazione è superiore alla velocità di condensazione per cui diciamo la quantità di vapore nella parte alta tenderà sempre ad aumentare. Aumentando il vapore aumenta la velocità di condensazione perché più molecole ci sono qui nella parte vuota maggiore la probabilità che alcune di queste molecole tornino allo stato liquido. Quindi aumenta la velocità di condensazione finché non si raggiunge un equilibrio, finché la velocità di evaporazione non diventa uguale alla velocità di condensazione. In questa situazione la pressione raggiunge un certo valore che si chiama tensione di vapore saturo o semplicemente tensione di vapore e il suo valore dipende dal tipo di gas e dalla temperatura. Una volta raggiunto l'equilibrio vediamo che cosa succede se aumentiamo la temperatura. Succede che aumenta la velocità di evaporazione quindi aumenta la concentrazione di vapore nella parte alta e dopo un po' aumenta anche la velocità di condensazione e quindi si raggiunge un nuovo equilibrio e quindi a temperatura più alta la tensione di vapore sarà superiore. Se la tensione di vapore raggiunge la pressione ambiente, cioè quella dell'aria o degli altri gas presenti, il liquido evapora non solo in superficie ma anche in profondità, in altre parole bolle. Pertanto il punto di debollizione di un liquido ha una data pressione e la temperatura alla quale la sua tensione di vapore è uguale alla pressione ambiente. Bene, diciamo allora la parte più discorsiva per il momento è terminata. Nella continuazione col prossimo video parliamo del calore latente e vedremo come risolvere problemi che riguardano i passaggi di stato. Ciao e a presto!